e bla snob a tutti samiri e samiri benvenuti in questo nuovo vlogmas questo è l'ultimo vlogmas dell'anno perché poi vloggerò normalmente e niente comunque come state spero bene io sì mi ero svegliata tipo mezz'ora fa ma non mi volevo alzare e adesso sono svegliata prima della sveglia e comunque sì sono veramente contenta di dirvi che sto per passare una buona vigilia di natale e spero lo passiate anche voi oddio mi devo alzare seriamente perché mi devo sistemare la faccia e basta andiamo a sistemarci i capelli ieri ragazzi si hanno andato a comprare appunto dei video garanti perché non ne avevo più ahia non avevo più nulla e quindi di conseguenza ho fatto un bel po' di scorta di diodoranti poi già che c'ero mi sono comprata anche un oggetto per i capelli mi sa che i ragazzi mi piastrano i capelli col fono oggi anche se ieri l'ho già fatto però mi si sono ingarvogliati tutti aspettate ragazzi adesso sono risulto più guardabile rispetto a quando ho fatto il vlog e l'intro aspettate aiuto dato che dobbiamo piastrare i capelli together col fono adesso mi prendo questo coso qua e lo attacco alla spira il coso del fono mi sa che non ci riesco ok ce l'ho fatta yes sempre se ovviamente ah devo tagliare l'elastico ma devo mi sono dimenticata finito di piastrarmi i capelli non è che li devo piastrare sempre perché in realtà l'ho fatto già ieri quindi l'ho leggermente piastrati con il fono infatti si sono create delle pieghe adesso mi pettino i capelli perché sennò aiuto quindi ragazzi mi sa che mi faccio una bella adesso vedo un po' mi sa che mi faccio una bella treccino perché così così mi anche quando sto a casa diciamo che almeno un po' mi faccio un po' sono bella un pochino ok mettiamoci all'opera e quindi si oggi tra l'altro se mia zia viene a se mia zia mi viene a prendere allora vado a casa sua sicuramente però intanto iniziamo a sistemarci i capelli molto decente perché insomma non penso sia il caso di andare là con i capelli tutti spatti ok 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 ecco infatti arrivano i messaggi su whatsapp mentre mentre ok ok allora più o meno siamo qua comunque sistemiamoci i capelli e tutto e tutto almeno abbiamo aspetta mio padre è stato tutto essendo vero verino ok ok comunque raga è difficilissimo farli tricce perché ti rimangono tipo i capelli ok aspettate e niente comunque ho quasi finito e basta oddio wow comunque ho finito ragazzi miracolo ma ce l'ho fatta intanto vado a rispondere ai messaggi e basta ci vediamo dopo ok allora ragazzi stiamo andando a fare colazione e mio padre mi ha appena chiamato mentre facevo un audio e niente adesso sto burlando sto parlando al telefono ma ok amin 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.